Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video c'è, sta finendo, fanno piano perché sta finendo un buyer, che cazzo chiama, sta finendo, quella sua ragazzi, prema contro, prema, scusate stavo pensando un'altra cosa, non è stata male, noi che sto guardando ancora, dicevo, Walter Brema contro un buyer, le percose, partita molto, diciamo, all'inizio si vedeva che era un po', diciamo, mosh la partita, poi si sono alzate il livello di partita, ma io penso che, ok, giudiamo le cuffie, adesso cacciare ancora per, ovviamente 4-1 per il livello school, le percose, vediamo, ok, mancano due minuti più recupero, ma io ripeto, io penso che la partita prima era un po' congliosa, poi in un certo punto sta cominciando a, diciamo, a aumentare il livello di goal, quindi vediamo se, vediamo se la cuffo o meno, vediamo, eh, allora sicuramente, il, diciamo, il, io penso che, ok, vediamo, vediamo, eh, non vattesimo adesso, vediamo, due minuti di recupero, vediamo in questi due minuti cosa succederà, e fu così che il prema in due minuti farà 5 gol, e finirà 7 a 4, pazzesco, contro il piede prima, ha detto, dai che la cuffo, dai che la cuffo, dai che la cuffo, tira, angolo, no, rimessa, angolo, no, rimessa, angolo, sì, ragazzi, io, ripeto, io penso che, a inizio la partita era un po', poi a un certo punto della partita, il livello si è un po' alzato, per quanto riguarda il goal, quindi io penso che, ok, vediamo come andrà a venire in questo ultimo minuto di partita, angolo, a volo, tira, così, no, dico tira perché la voglio fare, però, eh no, niente, vai dietro, vai dietro, sì, fate autogol così, così, poi, vabbè che sono 4 vuole, però, va bene, manca un minuto, allora, sicuramente, vediamo, eh, dà, oh, è buono, niente, quindi io penso che, allora, vediamo, eh, mancano 20 secondi, attenzione, attenzione, guarda, è breve, anche cerca di, diciamo, riaprirla, no, niente, contropiede, vai, che la voglio cufare, dai, che la voglio, dai che la voglio cufare, vai, 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 contropiede, contropiede, vai, 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 niente, non c'è, mancano 10 secondi, vai, vai, tira, ma perché non tira, 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 anzo, non l'ho cufata stavolta, quindi, facciamo, venerdì, ok, la volevo cufare, ma, ok, quindi, in questo momento, ma, ma, come chiedi, Brema, eh, Brema, entre Brema e, Paglia Leverkusen, 1 a 4 per il Leverkusen, ti vedo, l'abbaginità di iniziare un po', così, ma poi, si sono alzate, il livello di risultato, ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani, con tantissimi nuovi contenuti, e niente, ci vediamo domani, spreco, l'altro finito, a te, ciao, tac, 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 ok, ragazzi, vi saluto, mi è stato bello stare a vostra compagnia, e ricordati, come sempre, che Alessio, vi vuole bene, a domani,